Per cortesia, guarda sempre l'obiettivo dei tuoi telespettatori qua, perfetto, qui così. Allora, la mia alimentazione era vegana fino a un anno fa. Ecco, infatti, cosa vuol dire questo? Cosa consiste? Che non mangio per scelta etica, ma altrettanto salutistica, animali e derivati. Però, da un anno a questa parte, mi nutro solamente... Mi nutro solamente di sborra, ciò vuol dire che quello è il mio menù fisso. Cioè, un attimo, da un anno a questa parte tu vivi solo di sperma, praticamente? Sì, mi nutro di sborra. E quindi come sei una? Sono una sborra italiana.